Acipe annulum de manu petri et noveris direzione principis apostolum, direzione in tua Maria Ecclesia roborati. Adonoren Dei Omnipotentis e Santorum Apostolorum Petri et Paoli, tibi comitimus diaconian Santa Maria e desgracis ad fornaces extraporta equitum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de manu petri et noveris direzione in tua Maria Ecclesia roborati. Acipe annulum de manu petri et noveris direzione in tua Maria Ecclesia roborati. Acipe annulum de manu petri et noveris direzione in tua Maria Ecclesia roborati. Acipe annulum de manu petri et noveris direzione in tua Maria Ecclesia roborati.